Con la famiglia e assieme all'Agenzia Funebre si è deciso di fissare la data del funerale per giovedì pomeriggio. Si svolgeranno giovedì alle 15 nella chiesa di Fellette i funerali di Angelo Zen. Notizia che arriva due giorni dal rientro in Italia della Salma dopo quasi 2000 km a bordo di un volo di Stato decollato dalla Turchia. Salma che dopo il funerale di giovedì pomeriggio sarà tumulata nel cimitero di Fellette. Ed è proprio qui al cimitero di San Giacomo che sabato pomeriggio è stata portata, ascoltata dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, la Salma di Angelo Zen. Giorni di speranza, poi la tragica notizia twittata dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Angelo Zen, sessantenne tecnico-orofo di Romano Dezzelino, era sepolto da dieci giorni sotto le macerie dell'hotel Saffron dove alloggiava per un viaggio di lavoro. Viaggio, come racconta un amico, programmato all'ultimo minuto. In pochi infatti sapevano che Zen fosse in Turchia al momento del terremoto. Una tragedia questa che ha sconvolto due comunità. Una grande famiglia infatti, quella di Zen, che si divide tra Fellette, casa della sua infanzia dove vivono ancora oggi la mamma Luigia, il fratello e il figlio, e Maerne dove risiedeva negli ultimi anni insieme alla molle Patrizia. Famiglia che oggi chiede solo tranquillità. Tutto quello che avverrà da qui a giovedì sarà quello di garantire il massimo del supporto alla famiglia, l'ordine che potremmo garantire anche attorno alla chiesa e anche la necessità di collocare tutti coloro che verranno anche per un saluto dall'esterno, metterli insomma un po' più distanti proprio per garantire questa tranquillità, questo cordone di tranquillità alla famiglia.